Ciao amici followers, benvenuti, anzi bentornati a Devo Dirti un Fatto, il podcast di approfondimento su cinema, serie tv e fumetti con argomenti che scelgo di volta in volta a cazzo di cane. È una rubrica di consigli e richiesti, l'altro podcast mio che si fa una volta a settimana e che invece vi consiglio cose belle a chilometro zero. Ma oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di una roba molto divertente, cioè della noia e di come questa mi ha aiutato ad avere la mia creatività e a farmi diventare quello che sono. E per chi non lo sapesse io sono un fumettista, ma ciancio le bande, bando le cianci, andiamo con la sigla e andiamo poi subito al punto che so che voi giovani e di adesso volete le cose subito e pronte. Devo Dirti un Fatto, pensieri a caso su argomenti a caso con Fregat Partiamo dal presupposto più importante secondo me, il fatto che noi dobbiamo in qualche modo hackerare il nostro cervello affinché questo possa produrre delle idee. Che cavolo voglio dire con questa frase? Il cervello secondo me è una macchina fatta per intrattenerci, è tipo un content creator, ecco come va di moda adesso definirli. Il cervello deve creare qualcosa, deve sempre creare e quando non sa che cosa fare, quando non ha un compito da svolgere, allora si inventa. E' in quel momento lì che noi abbiamo la creatività. Ma andiamo con ordine, com'è che mi è arrivata questa illuminazione, poi magari è anche sbagliata e non mi sto qui, non sono psicologo e non sono neanche lontanamente laureato in psicologia. A massimo ho visto qualche puntata di The Mentalist ma non credo che questa faccia curriculum. Comunque questa idea mi è venuta quando dovendo scrivere ho capito che la maggior parte delle volte che mi veniva un'idea, un qualcosa, un'ispirazione, le volte in cui arrivava questa illuminazione erano sempre nelle stesse medesime condizioni. Facciamo un esempio, quando io ero bambino, quando si è bambini di solito si dice, ah i bambini sono sempre pieni di idee, i bambini sono sempre ricchi di fantasia, perché sono giovani, perché nella vita non hanno ancora conosciuto il grigiore del tram tram quotidiano. Ecco secondo me questo modo di esprimersi, questa idea sui bambini è sbagliatissima. Io credo che i bambini non possano fare quello che vogliono fare e quindi siano per questo motivo più fantasiosi. Vi spiego ancora peggio, quando ero bambino prima non c'erano i canali tematici tipo Boeing, tipo K2 pieni di cartoni animati, tutto il pomeriggio di solito da lunedì al venerdì c'erano i cartoni animati, poi che succedeva? Poi il weekend c'era o la Formula 1 o il MotoGP, che a me rompevano le scatole, era come una puntata di Scooby-Doo, si sapeva già che alla fine era un tizio travestito, il cattivo. Per chi non lo sapesse Scooby-Doo è un cartone animato dove c'è un cane con altri quattro tizi che vanno alla ricerca di misteri da risolvere e poi trovano sempre un fantasma, un lupo mannaro e poi alla fine questo lupo mannaro, questo fantasma è sempre qualcuno di travestito, quindi in realtà i mostri non sono i mostri veri, ma siamo noi. Ok, non stiamo a parlare di Scooby-Doo, però il concetto è che era ripetitivo, come ripetitivo era il MotoGP che vinceva sempre Valentino Rossi e la Formula 1 era ripetitiva perché vinceva sempre Schumacher, a me mi annoiavano a morte, ragazzi c'è chi gli piace, a me no. Quindi che succedeva? Nel weekend dove io avevo più tempo libero perché non andavo a scuola, in teoria mi aspettavo che il pomeriggio facessero i cartoni animati invece la domenica e il sabato diventavano i giorni degli adulti, la tv nazionale non metteva più i cartoni animati che c'erano nel pomeriggio ma metteva MotoGP e Formula 1, cose che mio padre voleva guardare e io ero costretto a guardarmi sta roba noiosissima. E com'è che combattevo questa noia? Mettendomi davanti ai miei giocattoli, le tartarughe ninja o altro, cose che io durante la settimana non toccavo perché c'era già qualcosa che mi intratteneva, c'era già il cartone animato, c'erano già le tartarughe ninja a cartone animato perché dovevo giocare con i pupazzetti? Beh, mi trovavo costretto a giocare perché non avevo altro e lì mi inventavo migliaia di storie da fargli vivere. E' chiaro cosa succedeva nella mia mente di bambino, se guardo un cartone animato ho la mente impegnata a pensare a quello che sto guardando ho già la mente impegnata a risolvere questa problematica cioè capire la trama e fantasticare su quella trama. Quando invece si annoia il nostro cervello che è un content creator è costretto per passare il tempo a inventarsi delle storie quindi nel momento di noia con i pupazzi che non mi sarei mai calcolato iniziavo a creare delle storie. Da adulto questo concetto me lo sono portato dietro, quando invece dovrei scrivere un fumetto, dovrei avere un'idea per proporre un soggetto a qualche casa editrice devo scrivere un corto, anzi vi consiglio di andare sul canale di Barbaroffa perché ogni mese ci sarà un corto scritto da me e qualche volta la interpreto anche tipo Natale degli Italiani o la telefonata quindi vi consiglio di andare su YouTube al canale di Barbaroffa ma non divaghiamo. Dicevo quando poi mi trovavo lì a dover decidere trovare un'idea per un corto allora che cosa facevo? Anzi cosa faccio tuttora? Vado alla posta, faccio la fila, mi metto lì a fare qualcosa di noiosissimo perché sapendo come ragione il cervello cioè se non ha nulla da fare, se non ha un compito da svolgere, se non ha una serie da vedere allora si annoia e crea, allora io lo hackero e lo metto in condizione di annoiarsi perché molto spesso alcuni miei colleghi mi dicono cavoli, ieri ho visto tutta la sera se le televisive ho letto fumetti tutta la sera, non mi è venuta in mente neanche un'idea per il mio prossimo fumetto e gli dico eh grazie al cazzo perché è ovvio che se tu hai il cervello impegnato quello non può essere libero di creare questo è il primo punto, io penso che la noia sia indispensabile per intrattenerci e come il cervello ci intrattiene noi possiamo prendere quello spunto e creare qualcosa per intrattenere altre persone seconda cosa, secondo modo in cui io creo è quello della pubblicità del formaggio lo chiamo così la pubblicità del formaggio potrei anche chiamarlo con un altro titolo magari potrei dire i film brutti sono belli che succede? molto spesso quando guardate un film bello è molto bello ok? vi piace non avete nulla da aggiungere molto spesso chi è fan di Tarantino e cerca di fare il tarantiniano tra virgolette si ritrova a scrivere delle storie che sono delle similcopie sono della versione Eurospin Lidl di Tarantino qualcosa di sbiadito perché se una cosa già ti piace che cos'è che puoi aggiungere già ti piace così com'è è come le lasagne della mamma cioè ce le hai già sono perfette che cacchio ci vuoi mettere dentro il gialapegno? l'avocado? non credo proprio un film brutto invece che ha degli ottimi spunti cos'è che vi scatena nella vostra mente? il lamentarvi quando un film non vi piace uscite fuori dalla sala dicendo ma perché il personaggio X non ha fatto questo? ma com'è possibile che un'idea così bella così interessante sia stata sfruttata così male? perché non l'hanno fatto in quest'altra maniera? perché i personaggi invece di dividersi non si sono uniti magari stando insieme potevano fare il culo all'assassino? oppure com'è che la storia ha deciso di prendere quella piega mentre all'inizio sembrava così avvincente? ecco perché dicevo prima questo è la sindrome della pubblicità del formaggio tempo fa c'era una pubblicità del formaggio in tv dove c'era sto tipo che faceva a un baracchino mi scusi mi farebbe un attimo un panino mi può mettere il prosciutto sottile sottile il pomodoro me lo fa tagliato grosso il formaggio me lo taglia così cos'ha e il tipo che stava al bancone con tutto rispetto verso il cliente diceva con tono non curante è fattatila tu ecco il fatto è che se un film non vi piace un film non vi soddisfa vi dà un sacco di spunti per migliorarlo un esempio pratico io sto scrivendo una storia romantica cioè il mio fumetto tra le varie cose è anche una storia romantica perché ultimamente ho sempre letto fumetti che erano storie romantiche orrende dove la storia romantica era soltanto un dobbiamo stare insieme c'è il mondo che ci divide mentre in realtà secondo me i problemi di una coppia non vengono prima ma vengono successivamente e di solito le storie romantiche sono un McGuffin per raccontare altro questa è la mia idea ma visto che questa mia idea non viene mai rispettata e mi trovo a lamentarmi delle altre storie ho preso spunto da questa cosa per scrivere la mia diversione che può essere giusta può essere sbagliata qui non parliamo di assolutismo di bellezza nello scrivere qua io sto parlando di come possono venire le idee io quello che vi consiglio dopo questi miei due modi per avere idee è quello di trovare il vostro io penso che la noia sia una cosa generalistica io penso che sia proprio un concetto generale ma non solo uno psicologo io vi consiglio soltanto di fare questo quando avete una bella idea cercate di ricordarvi come vi è venuta dove eravate cosa stavate facendo come diceva anche un nodo film cosa facevate anzi no era Antonio Razza Rezza non mi ricordo come si chiama un attore teatrale molto bravo poi cercatevelo su su youtube no cercatevelo su google perché così almeno se sbagliate il nome vi dice forse stavate cercando comunque cercate di capire senza divagare cercate di capire come stavate cosa stavate facendo e cercate di replicare quelle condizioni cercate di hackerare il vostro cervello soltanto conoscendovi potrete fregarvi e avere idee a comando che poi saranno belle o brutte intanto ce le avete e poi selezionate questo è quello che vi volevo dire oggi probabilmente la prossima puntata sarà invece una puntata di consigli e richiesti dove io e Alfredino vi consiglieremo cose belle fatemi sapere se questo format intermedio tra una puntata e l'altra di consigli e richiesti vi piace così che continuerò a farvi questo approfondimento con il vostro devo dirvi un fatto devo dirti un fatto non lo so non mi ricordo neanche più come si chiama il mio podcast siamo messi bene e niente ciao fate i bravi eh